stasera abbiamo deciso di sperimentare con il messier cuisine un piatto di pasta gli spaghetti cacio e pepe ovviamente i puristi della cucina romana e non ridiranno ma noi questa sera avevamo voglia di pasta e abbiamo detto perché non provare questa ricetta con il messier cuisine connect e vi ricordo che potete farlo anche se avete il messier cuisine plus con lo stesso procedimento questo piatto e ci sembra che il risultato come vedete già da questa immagine sia abbastanza buono vediamo come sarà il sapore ma sicuramente dal profumo vi dico che merita quindi seguite questo video per scoprire il procedimento per realizzare gli spaghetti cacio e pepe con tutti gli ingredienti e anche con qualche segreto per poter cucinarli al meglio gli ingredienti che utilizziamo per preparare la cacio e pepe di questa sera sono 180 grammi di pecorino 750 ml di acqua un cucchiaino di olio extravergine di oliva un cucchiaino di sale 350 grammi di pasta spaghetti nella precisione la prima cosa che facciamo è mettere all'interno del boccale l'acqua l'olio ed il sale ed andiamo a infossare 10 minuti 100 gradi velocità 1 trascorsi i 10 minuti apriamo soltanto il tappo del misurino mettiamo dentro i nostri spaghetti e senza rimettere ovviamente il tappo andiamo ad impostare il tempo di cottura della pasta che nel nostro caso sono 13 minuti ma tenete presente che potrebbe volerci qualche minuto in più perché all'inizio a cuocere è soltanto la parte iniziale dello spaghetto la parte che spunta fuori non non si cuocerà quindi può darsi che ci vorrà qualche minuto in più intanto impostiamo 13 a velocità 1 100 gradi ovviamente reverse e andiamo a far partire il nostro messaggio vedete gli spaghetti girano noi non andiamo a fare nulla non li tocchiamo se non ogni tanto dare una piccola spinta verso il basso se vediamo che non scendono vedete che già gli spaghetti cominciano a scendere da soli piano piano con il plus non si può fare con il connect invece se volete potete anche premere il tasto pausa spingere leggermente con la mano lo spaghetto e poi riavviare il procedimento ma come vedete non ce n'è bisogno stanno tranquillamente andando giù da soli vedremo però e fra circa 10 minuti qual è il risultato finale mancano 9 minuti quindi ne abbiamo fatti circa 4 di cottura gli spaghetti sono entrati tutti all'interno del boccale come vedete boccale gira per ora sembra non si siano spezzati sono passati i 13 minuti che avevamo impostato nella cottura adesso andiamo a vedere a che punto è la nostra pasta e andiamo anche ad assaggiarla vediamo se ha bisogno di un altro po di cottura o se va bene do un'assaggiata vedete gli spaghetti non si sono spezzati quasi per niente do un'assaggiata e vi dico perfetta secondo me è perfetta con questo tempo di cottura quindi andiamo a mettere il pecorino ed il pepe che non vi avevo menzionato tra gli ingredienti iniziali ma ovviamente è il principe di questa ricetta quindi una bella spolverata abbondante di pepe che poi andremo a mettere anche sopra a coronamento diciamo del piatto terminato di mettere il pepe prendiamo il nostro coperchio e andiamo a mescolare il tutto e costando di nuovo la funzione reverse velocità 1 per un minuto via vediamo se siamo all'abbiamo amato bene il nostro pecorino mi sembra proprio di sì andiamo ad impiattare ecco impiattato il nostro spaghetto cacio e pepe vedete molto molto cremoso e gli spaghetti sono rimasti integri con questa tecnica spero che la ricetta vi sia piaciuta vi invito come sempre a seguirmi sul sito www.messiericette.it vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo facebook messier cuisine connect plus italia ma soprattutto come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube in cucina con messier e buona spaghettata a tutti